Se gli chiedono ваша roba Wow, regno Ero a figo E poi è sicuro che non arriva addirittura Non ce l'ha Non faccio passare Sto ne preoccupando Eeeh maronna Carca Levasi davanti E me mi è morto un cadavere qua davanti Non riesco più a vedere Eeeh mi fa un danno Ma cazzo No ma si è spostato all'ultimo Ma l'assistenza è matata Bella Bellissima Non è che sto registrando Blade Manca pochissimo per baccarlo in testa Spunta solo il fusi Preso Eeeh I'vano 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 Grazie a tutti.